Scusa, 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 sono in ritardo, grazie Grazie Bro, ma come facevi a sapere che ne avevo bisogno? Grazie, tanto non ci riesci col sinistro Eh, volevi, eh? No, vabbè, ma queste sono le Jordan 3 Vieni con me che ti faccio vedere le mie, vieni, vieni Bro, bro, ascolta ma, no, non volevo niente, volevo salutarti, basta